Il tavolo Aree Verdi e Mobilità Urbana di Cantiere Gela propone un'iniziativa molto virtuosa che riguarda la pulizia di alcuni giardini che insistono nella zona di Capo Soprano. Qui siamo in Via Morselli, nello specifico nel Giardino Margherita. Qual è la vostra proposta e soprattutto come pensate di coinvolgere tutti i cittadini che volessero? Il Cantiere Gela ha diversi mesi impegnato in diverse iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sulle principali problematiche della città stessa. Il nostro tavolo tematico si occupa di Aree Verdi e ha lanciato l'iniziativa di proporre all'amministratore il regolamento per la cogestione di Aree Verdi con i privati. A tal fine abbiamo lanciato come proposta quella di sperimentare in Via Morselli in piccolo questa cogestione. Quindi noi oggi affiggeremo le locandine per chiedere alla cittadinanza di dare la disponibilità indicando anche l'area che loro vorrebbero adottare sostanzialmente. Successivamente noi a settembre ci auguriamo di poter indicare questi nominativi all'amministrazione così da consentirle di poter predisporre gli atti amministrativi al fine di poter cogestire queste aree. Quindi facendo leva sul senso civico della cittadinanza l'obiettivo sarebbe quello di tenere nel massimo decoro delle piccole aree verdi. Sì, l'idea è quella da un lato di manutendere queste aree che purtroppo a causa anche dei problemi di gestione non sono in uno stato ottimale, dall'altro lato l'idea è quella di far riappropriare questi spazi alla cittadinanza. La gente deve sentire questi spazi come propri, quindi non solo con il proprio contributo può aiutare a manutendere ma anche possono essere i nostri occhi vigili per la gestione di queste zone. Ricordiamo la mail di contatto? Sì, la mail di contatto è cantiere-tavoloverde-gmail.com L'iniziativa è più che altro mirata a dare a Gela, ai gelesi essenzialmente. Un esempio di che tanti spazi verdi abbandonati per quanto mi riguarda sono ormai brutti a guardare. Noi vogliamo dare un esempio perché venga dato, venga sistemato questo verde che può diventare anche una zona di aggregazione anche per i ragazzi, per tutti quanti e dopodiché speriamo che anche gli altri spazi verdi di Gela possano essere utilizzati e gestiti da queste persone per farli diventare belli come spero diventerà questa via Morsella. Dunque intende dire anche di altri quartieri? Ma sicuramente per tutto Gela, noi abbiamo dato una proposta al Comune di Gela per dire che è un regolamento perché possa dare poi in gestione queste aree verdi all'interno del Comune di Gela. Il nostro scopo è quello di dire che Gela era bella e noi vogliamo che Gela diventa ancora più bella. Noi vogliamo una città bella, pulita perché possa essere di ricamo a tutti i turisti dell'Italia e dell'Europa.